Siamo quasi al punto di partenza, mancano due giorni e arriverà il momento nel quale i candidati al Consiglio Comunale e Sindaco potranno iniziare a presentare le liste alla Segreteria del Comune. A partire da venerdì 6 maggio, così come prevede la legge, ci saranno cinque giorni di tempo per presentare le candidature. Il tempo utile scadrà mercoledì prossimo, 11 maggio, a mezzogiorno. Tranne qualche eccezione, sarà probabilmente questo ultimo giorno ad essere il più gettonato dai candidati. Il numero reale ed effettivo degli aspiranti concorrenti a una delle 24 poltrone del Consiglio Comunale e all'unica di Sindaco si saprà comunque entro giovedì 12 maggio, dopo che la Commissione elettorale avrà terminato l'esame delle candidature e avrà approvato, modificato o contestato le liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature a Sindaco. La campagna elettorale a Favara intanto non è ancora entrata assolutamente nel vivo e inoltre ci sarebbe ancora qualche incertezza persino sul nome o sul numero dei candidati. Fino ad oggi la gente non conosce i reali programmi dei candidati a Sindaco che in molti casi devono essere ancora realizzati e finiti di stilare. Per alcuni è sempre work in progress. L'individuazione dei problemi cittadini si conoscono, non occorrerebbe solamente elencarli ma inserire le soluzioni. Come si vuole risolverli? La gente che deve votare ha bisogno quantomeno di sapere, di conoscere, di guardare in faccia e di sentire la voce dei candidati. L'attuale modo di amministrare il Paese ha disintegrato la fiducia nei partiti, negli attuali consiglieri comunali e nella stessa figura del Sindaco. I favaresi erano abituati a conoscere e vedere cosa accadeva all'interno del Palazzo Comunale. La blindatura della vita comunale e l'interruzione del filo diretto con i cittadini ha portato adesso alla situazione che è sotto gli occhi di tutti. Forte disinteresse e rabbia dei cittadini nei confronti della politica. Adesso i candidati ai partiti riusciranno a convincere gli elettori che negli ultimi anni si sono sentiti abbandonati? Sarà una grossa sfida per i candidati, ai quali auguriamo un buon lavoro.